La nostra pianta del cuore è morta stecchita all'improvviso e non ci spieghiamo come questo sia possibile. In base alla mia esperienza da coltivatrice appassionata di piante posso darti 7 consigli fondamentali per non uccidere più le tue piante d'appartamento. Io sono Francesca, benvenuti fra le piante. Mettiamo subito in pratica questi 7 consigli e facciamolo insieme. Primo consiglio, l'importanza della luce. In giro non è difficile leggere di piante che stanno bene all'ombra o addirittura in semi buio. Niente di più sbagliato. Tutte le piante hanno bisogno della luce, fondamentale per compiere la fotosintesi. Con poca luce la pianta sopravviverà, ma non sarà mai ricogliosa, perciò le piante vanno sempre posizionate in prossimità delle finestre. Ma se abbiamo poca luce in casa oppure vogliamo illuminare piante più esigenti possiamo usare le grow lights. Io attualmente ne ho due, una a bulbo da 36 watt della Sansi che ho posizionato sopra la mia vetrinetta di Ikea e un'altra strip led che ho posizionato sopra la mia vetrinetta più lunga sempre di Ikea. Ti lascio i link per lo più affiliati di tutte le cose che uso qui sotto in descrizione. Secondo consiglio, come annaffiare. Vi sembrerà strano ma è molto facile uccidere una pianta per troppo amore. Annaffiando troppo o troppo spesso una pianta possiamo farla marcire, una condizione da cui purtroppo non si torna indietro. Ma come facciamo a decidere qual è il momento giusto per annaffiare? Esiste uno strumento perfetto per neofiti che aiuta a non sbagliare più le annaffiature, un tester del suolo come questo. Costa poco ma svolta davvero la vita nostra e delle piante perché inserendolo nel substrato ci dice se è ancora bagnato, umido o secco e così possiamo sapere quando annaffiare o quando aspettare qualche giorno in più. Ma veniamo alla tecnica migliore per annaffiare ovvero la subirrigazione. Invece di annaffiare da sopra annaffiamo da sotto. Ci procuriamo un contenitore riciclato di qualsiasi tipo, lo riempiamo d'acqua e mettiamo letteralmente la pianta in ammollo. La pianta prenderà da sola l'acqua che le serve e noi non rischieremo di compromettere l'apparato radicale. Dopo circa mezz'ora, un'ora scoliamo l'eccesso e rimettiamo la pianta nel suo vasetto. Terzo consiglio, un buon terriccio. Altra cosa spesso sottovalutata è la qualità del substrato. La qualità e la composizione del substrato fa la differenza. Senza andare per il sottile e parlare di tutti i substrati esistenti con cui possiamo coltivare le nostre piante, è utile sapere che il substrato in cui mettiamo la nostra pianta deve essere drenante. Cosa significa? Che non deve essere compatto ma alleggerito dai nesti come ad esempio la perlite. Questo permetterà di creare area all'interno del substrato. La pianta crescerà meglio e le affiature non creeranno ristagni interni. In collaborazione con Polov ho creato dei mix pronti all'uso come questo. Sono già molto ricchi e drenanti, ti lascio il link dove acquistarli qui sotto in descrizione. Altrimenti procurati un terriccio di qualità e magari aggiungi degli inerti come ad esempio appunto la perlite. Quarto consiglio, pulire le foglie. Pulire le foglie aiuta le piante a compiere meglio la fotosintesi e ci consente anche di prendere in tempo le infestazioni o gli attacchi parassitari di cui purtroppo tutte le piante sono vittime. Usate della semplice acqua pulita proprio come succede in natura. Meglio se filtrata o piovana o anche distillata per evitare che si formi il calcare sulla pagina superiore o inferiore delle foglie. Personalmente uso dei dischetti struccanti lavabili. Trovo che siano ottimi perché sono delicati e puliscono bene e poi appunto sono riutilizzabili e lavabili quindi sostenibili. Se ancora non l'hai fatto e stai trovando questo video utile ricordati di lasciarmi un like e di iscriverti al canale per altri video come questo. Quinto consiglio, il concime. Il concime non è un'opzione. La pianta ha bisogno di nutrimento e nella coltivazione casalinga in vaso non ha altro modo di nutrirsi se non con il nostro aiuto. Di concimi ne esistono di tutti i tipi. Anche qua mi raccomando comprate un concime di qualità. Potete trovarlo solubile, concentrato, in polvere o anche un tripac come questo che personalmente ho trovato davvero utile per la simidroponica. Mi raccomando non servono dosi enormi di concime, anzi io dimezzo molto spesso le dosi indicate sulla confezione. Come vedete questo annaffiatoio ha una capacità di 1,7 litri ma io metterò soltanto un misurino. E sì, concimo tutto l'anno, d'estate con più regolarità, d'inverno meno. Mi raccomando se avete animali o bambini in casa fate attenzione a dove lasciate l'annaffiatoio. Potrebbero essere particolarmente curiosi come me e voler bere l'acqua concimata. Sesto consiglio, umidità ambientale. L'umidità ambientale è un valore da tenere sotto controllo non solo per le piante ma anche per la nostra salute. Una casa troppo secca non fa bene alla respirazione di nessun essere vivente. Ricorda che le piante che abbiamo in casa provengono per lo più da regioni tropicali, perciò crescono meglio se l'umidità in casa si aggira attorno al 50-60%. Per piante più rare e particolari siamo costretti ad alzare questo valore se vogliamo aggiungerle alla nostra collezione. Il mio consiglio base per ogni coltivatore in erba è l'acquisto di un egrometro come questo, per controllare anzitutto che valore di umidità abbiamo in casa. Possiamo alzare il valore dell'umidità ambientale naturalmente usando delle serre oppure pensare di acquistare un umidificatore come questo. Settimo consiglio, prevenzione. I parassiti potrebbero arrivare ma intanto un po' di prevenzione. Soprattutto nei cambi di stagione è buona abitudine fortificare le nostre piante con estratti naturali come quello di ortica o anche l'algatron. Io preferisco applicarlo per via fogliare quindi diluisco e nebulizzo direttamente sulle foglie. In ultimo un consiglio bonus. Non togliamo le foglie rovinate o che stanno ingiallendo. La pianta sacrifica le foglie vecchie per avere l'energia giusta a metterne di nuove quindi lasciamogli compiere questo processo in santa pace e togliamo le foglie quando sono realmente secche o quando ormai alla pianta non servono più. Eccoci giunti alla fine di questo video. Iscriviti al canale per altri video su piante e dintorni e noi ci vediamo al prossimo. Grazie a tutti.